Si terranno domani alle 12 nella cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi i funerali di Angelo Frieri, direttore sanitario del Frangipane e del Criscuoli, morto a 70 anni stroncato da un infarto. Una figura insostituibile, professionalmente e umanamente, perdiamo un faro. La direttrice generale dell'Asla Vellino, Maria Morgante, è distrutta nel ricordarlo. Angelo per noi è stato tutto. Angelo, il direttore sanitario, l'uomo, il professionista è stato e sarà per noi un esempio. Quando l'ho chiamato l'anno scorso per ricoprire la carica di direttore sanitario dell'ospedale di Ariane Irpino, un momento terribile, la sua risposta è stata immediatamente sì. Mi disse Maria per te questo ed altro ed è stato così. Per Angelo deve esserci il giusto tributo, ecco perché annuncia la Morgante e ho già fatto richiesta alla prefettura di intitolargli l'ospedale di Sant'Angelo. Perché l'ospedale di Sant'Angelo è il dottore Frieri. Affranta anche la comunità di Ariano, dove Frieri era arrivato in piena pandemia, sempre in trincea nella lotta al Covid. Ha messo nel campo tutta la sua energia e tutta la sua predisposizione a fare bene, sia nei riguardi di operatori sanitari sia dei cittadini. Intanto nelle ultime 24 ore 124 nuovi positivi con 14 casi a Gesualdo, coinvolti 4 nuclei familiari, 8 a Mugnano del Cardinale e 7 a Serino. E si contano altre due vittime al Moscati, un 76enne di Avellino e un 67enne di San Paolo Belsito.